c'è un edificio lungo una delle passeggiate più belle di fano quella in via dello squero che per il suo stato attuale guasta un po l'atmosfera un po bucolica certo ma sicuramente affascinante di questo angolo di fano sedendosi nelle panchine nei pressi della cosiddetta fontana delle rane si può ammirare l'imboccatura del porto il faro il porto canale ma volgendo lo sguardo a destra anche di una bella impalcatura che fa da gabbia ad un edificio di proprietà demaniale che nell'immediato dopo guerra fu la sede di scuole fanesi e in molti lo frequentarono è l'ex asilo manfrini e la sua vista in chi c'è stato evoca ricordi d'infanzia da ragazzetto dopo la guerra ho fatto l'asilo qui all'asilo manfrini poi questa scuola per un fatto che hanno fatto la strada qui dietro in via della marina gli venne tolto un pezzo di cortile lì dove i bambini giocavano e poi piano piano questa scuola l'hanno chiusa ognuno di noi se scava nei ricordi ha un flash di quel felice ed innocente periodo della nostra esistenza in cui le maestre apparivano come fate buone che si prendevano cura di noi e se ci sforziamo anche sentiamo ancora l'odore di quei locali e la minestra che ci mangiavamo tra le mura della scuola per chi ci ha vissuto in quell'edificio ora così malandato e fatiscente e che ci ha visto anche i figli entrarci vederlo così provoca una stretta al cuore però anche i miei figli hanno frequentato questo asilo e come ho detto prima ho incontrato un vecchio marinaio che ora abita in Brianza che ogni tanto torna a Fano mi ha detto dice anch'io perché è più vecchio di me ho frequentato quell'asilo e tutte le volte che vengo a Fano vedo questa bruttura e quindi ci tenevo a farlo presente ecco per voi che l'avete vissuto da piccoli vederlo così è un dispiacere è un dispiacere grosso non so io tutte le amministrazioni che sono passate l'asilo Manfrini il vecchio asilo non dicono niente quindi se si può sapere qualche cosa non credo sia un immobile da lasciare così